Siamo in via Emilia Centro, attimi di tensione, poco fa, ma una vicenda finita a lieto fine, perché poco fa due piastrelle da questo palazzo centrale all'angolo con Piazza Mazzini su via Emilia Centro si sono staccate, sono staccate precipitando al suolo, vediamo ancora i frammenti in questa zona di piastrelli che si sono staccate all'improvviso, per fortuna nessuno è stato colpito, in particolar modo c'erano due persone qui, questa signora che ci ha appena raccontato del pericolo scampato, che erano in questa zona, proprio sotto, a fianco del portico, su via Emilia Centro, dove improvvisamente è caduto a pochi centimetri da loro questo frammento di ceramica, questo doppio blocco di ceramica, che si è staccato proprio dalla parte, appena sotto al cornicione di questo palazzo, tra l'altro, a quanto pare sembra anche piuttosto di recente ristrutturazione. Questa è la boutique di Adani, questa è Piazza Mazzini, ovviamente zona subito transennata e la soddisfazione ma il tanto timore delle persone che erano vicino e che hanno scampato il pericolo, pericolo scampato, può davvero raccontarlo adesso. Ci ho appena raccontato appunto come è avvenuto, erano in due persone vicinissimo al punto di impatto in cui le due mattonelle che sono staccate da questa altezza del quarto piano e quindi potevano davvero creare dei danni fortissimi, se no letali, se a contatto con il cranio, che per fortuna sono soltanto infrante sul pavimento sul salciato di via Emilia Centro. Tutto è andato bene, zona comunque bloccata al traffico, una zona già comunque pedonalizzata a quest'ora di forte afflusso, davvero una fortuna con le centinaia di persone che ogni pochissimo passano, che questi due frammenti non abbiano colpito direttamente le persone in transito. Cerchiamo di avvicinare, anche se queste sono immagini un po' ballerine, ecco, vediamo però chiaramente il punto del distacco, queste due mattonelle del rivestimento esterno del palazzo in angolo tra via Emilia Centro e piazza 20 Settembre che sono staccate, un volo di diversi metri, fino ad infrangersi a pochi centimetri da due donne che stavano chiacchierando appena al di fuori del portico. Così sa per caso cosa è successo? Sono staccate due mattonelle...